L'importanza di tornare in campo, l'importanza di quei due gol e quella grande illusione per questa premonese che alla fine purtroppo ha perso. Sì, sì, purtroppo. Non fa male questo risultato per la squadra. Secondo tempo abbiamo fatto un grande lavoro, tutti insieme, anche con tifosi, con tanti, però questo fa male. Ti chiedo come stai e come hai vissuto queste settimane difficili perché eri infortunato? No, sono stato infortunato, però dopo due partite senza minuti non è facile, però mi alleno bene, è buono, la sensazione è buona, allora sì, 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 ho minuti, faccio il mio lavoro e sono contento oggi di segnare due volte, però voglio vincere. Cosa manca ancora a questa premonese? Cosa manca? È difficile. Penso che abbiamo fatto un grande lavoro e siamo un po' sfortunati. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così e il risultato è arrivato. Hai fatto una doppietta sotto a un settore ospiti pienissimo di tifosi della caratternese 1600. No, no, è bellissima, è stata bellissima. Tutta la partita ho solo sentito i nostri tifosi, è bella e fa male di non vincere sotto la nostra curva.